Dai, c'erano cose che andavano, ma io ti ascolta, soprattutto su tipi miei, tu devi ascoltare qui, e questa ascolta che va carica la mano, non costruire la linea da un nuovo intellettuale costruire, per quello che ti dice, è una parola. 5, reazione. Stai sdraiata come un uomo a guardare la tv. Non sapevo che sdraiarsi sul divano fosse un privilegio degli uomini. Certo che lo è. Sono stanca. Lo credo, è una bella strapazzata a ballare. Non lo facevi più da sette anni, come mi hai ripreso proprio adesso. Perché mi va, mi rilassa, e poi penso a qualcosa. Occupati di noi allora. Sancio, perché non ci separiamo? Eh? Perché non ci separiamo? Finché continuerò ad amarti, tu non ti separi da me! Un giorno smetterò di avere paura di te, Sancio, e per fortuna sento che quel giorno sta arrivando. È meglio che vada in cucina. Sarà pronto ormai. E non ti permettere mai più di bicchiarmi. Fa male più a me che a te. Ragiona di più. Tu resta qui. Ci penso io ad apparecchiare. Perdonami. Non va male, non va male. È un po' più di aspetto.